Tanti ragazzi napoletani faranno felici altre squadre, a cominciare a dilatare, sarebbe veramente molto bello e sarebbe una forma ulteriore riscato di questa città che tutti hanno. Avere direttore, apriamo la cantina! Apriamo la cantina! Apriamo la cantina! oh la gabbina io ho la gabbina sono 40 gradi e la faccia da una maricona io ho finito un strumento la sesso la sesso ecco qua la valletta io ho finito un uomo che male la valletta io ho finito io ho finito